Allora adesso andiamo con l'aiuto del suo direttore al Museo del Saxofono, Attilio Berni. Buongiorno, benvenuto. Da domani al 17, seconda edizione dell'International Saxophone Meeting. Buongiorno, benvenuto. Io però con lei volevo parlare al netto dell'appuntamento di domani e dei prossimi giorni di quella meraviglia che ha alle spalle, di quello straordinario strumento al quale avete voluto dedicare un museo che è un pezzo di storia della musica, un grande pezzo di storia della musica. Assolutamente. Collegandosi a quel Novecento di cui parlavate poco fa, il sassofono altro non è che un tubo misterioso è un'icona multiforme del Novecento ed è espressione di tutte le tematiche e problematiche che hanno percorso questo secolo breve del Novecento. Il Museo del Saxofono è in assoluto una location preziosa che si può soltanto trovare nella mia città, a Fiumicino. È l'unico museo dedicato a questo strumento e come obiettivo ha la finalità di preservare, conservare e condividere il suo patrimonio con la comunità. Un patrimonio che è costituito da centinaia di strumenti, oltre 800, circa 2000 fotografie d'epoca, giocattoli d'epoca a forma di sassofono e che si apre al territorio anche con eventi come quello che citavo stamani e quello dell'International Saxophone Meeting che prenderà il via domani fino a domenica e che vedrà alcune delegazioni prevenienti dalla Tailandia, dalla Cina, da Taiwan e dal Canada, ospiti del nostro museo e che vengono appositamente per studiare il nostro museo e insieme a carpirne il segreto. Senta, direttore, io quando abbiamo preparato questo spazio che poi in realtà avevamo immaginato di fare già scorsa settimana, più o meno, in occasione dell'anniversario della nascita di chi il sassofono l'ha inventato, cioè sax, parlando abbiamo detto sì, però se parliamo di sassofoni lo voglio sentire e quindi che ci fa sentire? Ci fa sentire qualche pezzo unico di quelli che avete, non il classico sax? Assolutamente, abbiamo preparato una piccola selezione di quattro strumenti, a cominciare dal più raro sassofono del mondo, un sassofono costruito nel 1928 in soli 100 esemplari, ma che a causa della grande crisi, la grande depressione del 1929, viene praticamente invenduto e riconsegnato alla fabbrica in tutti i suoi 100 esemplari e questa fabbrica pur di ricavarne qualcosa decide di smontarli, usarli come parti di ricambio e li fa scomparire. Oggi nel mondo non ce ne sono più di sei o sette esemplari. E di quello che sta personale lei ce n'è sei o sette in tutto il mondo? In tutto il mondo e prende il nome dalla forma bulbo della campana, si chiama O-sax ed è un sassofono in una tonalità inusitata, è in fa anziché in si bemolle e mi bemolle ed ha un suono estremamente fascinoso. Ecco qua. Brava, era troppo bello per essere qui. Ecco, siamo riusciti a sentirlo nonostante il collegamento sia saltato un attimo. Io non so l'ordine della scaletta che aveva immaginato, direttore, però prima ha detto giocattoli. Io so, ce n'ha uno, poi non so se è propriamente un giocattolo che hanno avuto stalli e olio per intenderci, cioè proprio stalli e olio loro. Che ce lo fa vedere e ce lo fa sentire? Ovviamente è un sassofono giocattolo, è un sassofono a rullo, si cambia il rullo e cambia anche la canzone che vi faccio ascoltare. Mentre il direttore Attilio Berni suonava questo sax giocattolo, abbiamo visto, stalli e olio che l'avevano in mano in una foto d'epoca per testimoniare che è vero che non ci siamo inventati nulla, è veramente uno degli strumenti che loro avevano tra le mani. Prima di sentire altro, è anche uno strumento molto affemminile il sax, giusto direttore? Assolutamente, il binomio sassofono sensualità, sassofono erotismo è un binomio che ha percorso tutta la storia del cinema, da un film chiamato Desiderio o arrivare l'iconico ultimo tango a Parigi e così via, quindi c'è proprio un binomio per la forza, come dire, invasiva e pervasiva dell'immagine e del cinema, questo abbinamento tra sassofono sensualità e erotismo è sempre molto presente. E allora che altro ci fa sentire? Ha preparato una selezione di quattro strumenti, due ne abbiamo sentito e ne mancano due, da che ripartiamo? Sì, le farei sentire assolutamente, diciamo così, come dire, l'icona di quella sassofonomania che si era venuta a costituire intorno agli anni venti, che è un sassofono slide, cioè un sassofono metà sassofono metà trombone, non ha tasti, non ha chiavi e poi una particolarità che sarà presente durante questo meeting. Senta direttore, poi ci fa sentire il quarto pezzo che ha selezionato, sono belli e anche divertenti da vedere, tra un secondo, è enorme questo, quindi ci prendiamo qualche istante prima di andarlo ad ascoltare, con la sua musica magari ci avvieremo verso la fine della trasmissione, ma sono soltanto esperimenti, sono soltanto giochi, quel tipo di sassofoni che ci ha fatto vedere, al di là di quello di Staglioglio per intenderci, che ci ha detto è un giocattolo, o hanno un senso musicale, una ragione musicale, o è soltanto un modo per innovare? No, assolutamente, innanzitutto musica, divertimento sono anche qui un binomio fortissimo, noi in Italia abbiamo due parole, suonare e giocare, ma in inglese e in francese play e jouer hanno lo stesso significato, quindi c'è una componente molto empatica, molto forte, il sassofono è in assoluto uno strumento che vogliamo definire, come dire, endoscopico, entra nel nostro corpo e mette in relazione non soltanto le parti organiche come vibrazioni, ma anche le parti umorali, passionali, che vengono soffiate all'interno dello strumento, che diventa quindi una sorta di amplificatore di tutte le nostre emozioni. In qualche modo il sassofono è anche uno strumento empatico, mi piace sempre definire lo strumento che si abbraccia, non che si imbraccia, e si abbraccia come la tua donna, come la tua figlia, insomma, e quindi c'è un fortissimo, veramente una fortissima legame tra il sassofonista e il suo strumento. La sensazione è che quello il direttore lo deve proprio abbracciare, viste le dimensioni, che non è che è proprio comodo. Sì, ci si prova, insomma, in qualche modo, insomma. Però ecco, questo è un unico esemplare, un esemplare di proprietà della Gels Time, che è una fabbrica brasiliana, ed è uno strumento che ha vinto il Guinness dei primati, è uno strumento veramente di dimensioni eccezionali, partiamo di circa 2 metri e 96 è l'altezza, il tubo sono circa 6 metri, immaginate che la nota più grave rasenta la soglia di non udibilità, circa 27,6 metri. Allora lo sentiamo, se il collegamento tiene, sì, dovrebbe tenere, speriamo, che se no la superiamo la soglia della non udibilità. Questa era la soglia della non udibilità. Ecco qua. Direttore, grazie, ma no, pensavo se stasera andiamo a mangiarci una cosa, non le chiedo di portarsi questo sax, mi pare un pochino ingombrante, dove lo mettiamo? Assolutamente no, assolutamente no. Ci sono di tutte le dimensioni, anche piccolissimi. Il più piccolo del mondo, che è in contrapposizione a questo, misura soltanto 32 centimetri, il soprillo, e sarà in azione nei prossimi giorni. Senta direttore, un'ultima cosa, perché la mia è una battuta anche un po' scema, quella sul portarselo dietro, perché è due metri e quindi vedrai che sarà complicato. Però, nell'immaginario comune, il sax non è lo strumento del falò in spiaggia, non è la chitarra, eppure piace, eppure coinvolge, eppure ci si ferma ad ascoltarlo. Assolutamente, ma è lo strumento più versatile, che sonda universi musicali, che vanno dal jazz, al rock, al pop, alla musica rap, alla musica classica, ovviamente, e quindi è uno strumento che spazia veramente in tante situazioni musicali, è veramente uno strumento eclettico. Grazie ad Attilio Berni per essere stato con noi, per averci fatto chiudere in musica, letteralmente in musica, questa puntata di Specchio dei Tempi. Domani, dopo domani, il 17, l'International Saxophone Meeting, seconda edizione al Museo del Sassofono a Fiumicino. Ci fermiamo qui, una pausa arriva al telegiornale. Grazie a tutti.